Nei giorni scorsi abbiamo denunciato che qui a Biella, nei centri vaccinali, gli anziani fanno code interminabili per una clamorosa inadeguatezza organizzativa di ASL Biella e del nuovo dirigente Sanuò. E come vedete adesso le code sono presso a poco annullate. Vediamo perché sono presso a poco annullate. Perché? 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 Ah sì, certo, sennò hai chiuso il centro vaccinale e in effetti hai risolto il problema della coda. Se chiudi il centro la coda non c'è. Temo però, sennò, che se andiamo negli altri centri vaccinali si moltiplicano le code se tu ne chiudi uno. Credo che mia figlia Greta di 14 anni abbia già preciso il concetto. Dieci centri vaccinali, ne chiudo cinque, lì non ci sono più le code perché sono chiusi, ma negli altri cinque le code omettono. Andiamo a verificarlo, sennò. Eccoci qua, al centro vaccinale dell'ASL Biella non ci sono code. Bravo, sennò, bravo, sennò. E perché non ci sono code? Perché anche questo è miseramente chiuso.